Ma Cristiano, siamo ancora qua col metro? Certo, dobbiamo fare la seconda fase del metro drill, che è la fase più importante. La prima serviva per imparare a saltare, la seconda per coordinarci. Vi faccio vedere. Facci vedere, io mi metto qua, anch'io. Su un piede solo dobbiamo pensare di caricare come se facciamo un backstreet e poi massima forza esplosiva. Chi inizia? Io. Piede sulla riga. Piede sulla riga. Anche salto. Vai. Ha neanche ancora un vantaggio. Paolo. Avevo mangiato troppo di dolfellini. Migliorato tantissimo. Siamo pari. Siamo pari, va. Attenzione. Migliorato ancora per Ale. Paolo. Per questo vedi due metri. E vi win Paolo questa volta. Centimetro. Grande. Grande, grazie Cristiano. Grazie Chris. Grandi esercizi di salto. Mi raccomando, saltate anche voi e così sparerete il drive più lungo. Perfetto.